In Italia e in Croazia ci sono tanti piccoli centri con un patrimonio naturale e culturale molto rilevante, anche se scarsamente conosciuti e visitati. L'obiettivo principale di questo progetto è quello di far conoscere questi luoghi e incentivare il turismo contribuendo anche a una migliore distribuzione territoriale dei flussi turistici in Italia e in Croazia. Le località coinvolte dal progetto sono in Croazia, la regione montuosa di Rieca, le contee di Likassen e di Karlovaç e in Italia l'Uticarnia, il comune di Rive d'Arcano, il Delta del Po attraverso l'agenzia di sviluppo Delta 2000, il comune di Campobasso, l'ente parco naturale Sasso Simone e Simoncello, il comune di Predappio e il Gal Moltefeltro. Nel progetto sono anche coinvolte tre università, l'Università di Udine, l'Università di Bologna e l'Università di Zara. I principali risultati che ci aspettiamo di raggiungere con questo progetto sono un aumento dei flussi turistici verso le località che sono coinvolte, un processo di partecipazione guidato dalla comunità verso lo sviluppo turistico che si basi su una valorizzazione sostenibile delle risorse naturali e culturali e sulla creazione di un'offerta turistica locale che possa anche utilizzare le risorse e le piattaforme della sharing economy. Infatti attraverso gli strumenti della sharing economy si possono valorizzare e utilizzare non solo le risorse locali ma anche riuscire a dare delle risposte ad alcune carenze presenti sul territorio per quanto riguarda ad esempio l'offerta di alloggio e il trasporto locale. Ma lavoreremo anche sulle conoscenze, le abilità e le capacità della gente del posto che sono a tutti gli effetti uno dei fattori di maggiore attrazione del luogo. La nostra cornice di riferimento è quella dello sviluppo turistico sostenibile e uno dei suoi pilastri è l'approccio partecipativo. Quando usiamo il concetto di partecipazione lo decliniamo in due modi. Innanzitutto partecipare significa essere parte di un processo e quindi agire in maniera consapevole. I partecipanti sono coinvolti in azioni specifiche e sono chiamati a decidere. Ma al contempo partecipare significa anche essere parte di una comunità, essere parte di un sistema di solidarietà. In altre parole gli individui che sono parte di una comunità sono al contempo coinvolti nell'azione. Si parte dall'idea che per creare un luogo vivo, attrattivo anche per i turisti, bisogna puntare sulle persone. Lo scopo di questo progetto è quello di facilitare il coinvolgimento della gente del posto nelle attività turistiche, dalla creazione dell'immaginario del luogo, ossia come il luogo viene presentato ai turisti, alle possibilità offerte dalla sharing economy. Il primo passo del progetto è quindi quello di creare un immaginario turistico che nasce dalla popolazione stessa. Vogliamo fare in modo che siano gli abitanti del luogo che ne definiscano l'immagine. Vogliamo vedere i luoghi attraverso gli occhi dei locali e in questo modo far sì che le popolazioni mantengono il controllo sul modo in cui la loro comunità viene rappresentata. Grazie a tutti.